Sono le 7 in punto, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino, siete sul canale 17 del Digitale Terrestre ma siete anche in tanti sul nostro profilo social Occhio alla Notizia, andate su Facebook se vi trovate fuori casa e volete seguire la rassegna stampa e tutte le dirette che vi proponiamo ogni giorno, insomma non dovete far altro che andare sul nostro profilo Occhio alla Notizia, sulla nostra pagina. Allora cominciamo dal salto del giorno, vediamolo subito con la grafica, oggi è San Benedetto Martire ma è anche Santa Chelidonia, il sole sorgerà alle 7.23, tramonterà alle 18.30. Vediamo il tempo con il bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede cielo nuvoloso nelle prime ore della giornata con schiarite via via sempre più ampie, cielo irregolarmente nuvoloso con prevalenza di schiarite, le precipitazioni saranno nelle prime ore della giornata con brevi piovaschi residui nel settore meridionale della regione, le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi stazionari oppure in lieve diminuzione quelli minimi, c'è ancora un po' di vento moderato lungo la costa. Mercoledì domani 14 ottobre è ancora pioggia insistente sulla catena appenninica durante la giornata, brevi piovaschi in montagna, dalla serata potranno estendersi anche al settore settentrionale nella provincia di Pesaro Urbino della regione. Giovedì 15 come vedete dalla grafica avremo ancora piogge diffuse anche a carattere di rovescio in particolare nel pomeriggio, le temperature sono in aumento, un po' di venti moderati occidentali da sud nelle zone interne e sud orientali lungo la costa con raffiche di vento forte sempre lungo la costa e burrasca lungo il crinale, ancora poi instabilità nelle giornate di venerdì, un probabile miglioramento più duratura invece nella giornata di domenica. Andiamo a vedere i giornali anche perché questa mattina i due quotidiani anticipano quelli che sono i nomi che andranno a comporre la nuova giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli e le anticipazioni sono, ripeto, su tutti e due quotidiani. Cominciamo dal Carlino di Pesaro, Regione, Carloni e Baldelli in giunta al primo, cioè a Carloni va la vicepresidenza, poi le attività produttive, al secondo invece a Baldelli dunque l'agricoltura, in consiglio entrano Baiocchi e Cancellieri. A centropagina appello per immuni, la campagna del comune, scarichiamo l'app anticontagio, poi passa il giro d'Italia, domani la statale chiusa per tre ore, sotto due ultravissini condannati per un fumogeno, un anno appena sospesa la scintilla sugli spalti, accadde durante la partita con il Monza e poi denunce sia a Pesaro che Urbino, morti per Covid, partono gli esposti contro i sanitari, tra questi il caso dell'autista soccorritore ucciso a 56 anni nel marzo scorso dal virus e poi un'anziana segregata in casa da una coppia di badanti, le hanno spillato mezzo milione di euro. Il Corriere Adriatico, immuni in campo, una task force, la città più colpita dal Covid guida la campagna per scaricare l'app, è il primo comune nelle Marche. Centropagina, Benelli, due classi in quarantena, si attiva il servizio Drive Test e poi una banda seriale trafuga nelle BMW Volanti e Cruscotti, una coppia di badanti a Marotta sottrae ad un'anziana oltre mezzo milione di euro. Urbino, la polizia annuncia presenza più assidua in centro storico. Poi la nuova giunta, Quaroli, squadra ok, ora siamo ai dettagli. E dunque nel dettaglio non mancano ancora qualche, ci sono delle limature da fare. A Roma c'è un incontro questa mattina e quindi in giornata arriverà l'ufficializzazione probabilmente della squadra. Passa il giro, la statale si blocca, anche le scuole saranno chiuse. A Fano diversi istituti sul percorso della gara di domani appesero i mezzi nei sottopassi delle via La Marca e Canale. Per la VL è una vittoria che cambia le prospettive. Allora andiamo a vedere questa squadra che sta per essere ufficializzata dal nuovo governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Andiamo sulle pagine del resto del Carlino. A centropagina ovviamente il presidente, nato a Macerata il 25 settembre del 1974 e poi il titolo. Salta Martini va alla sanità, la delega probabilmente più scottante, più importante. Ecco la nuova giunta, ma soprattutto andiamo a vedere chi è appunto, chi sarà questo nuovo assessore. È un ex poliziotto, vicequestore aggiunto, ex sindaco di Cingoli e senatore. In quota Lega avrà probabilmente il ruolo più delicato nella giunta Acquaroli. Sarà infatti l'assessore alla sanità. Nella precedente giunta il presidente Ceriscioli si era tenuto quella delega. Gli altri, andiamo a vedere gli altri sempre dal Carlino. A sinistra cominciamo da Guido Castelli che probabilmente avrà la delega di assessore al bilancio, la delega al bilancio e al sisma, quindi al terremoto. Castelli è un ex consigliere regionale, lo è stato dal 2000 al 2009 e per dieci anni sindaco di Ascoli Piceno. È in quota Fratelli d'Italia, avrà un assessorato importante, quello del bilancio. Dovrà gestire, seguire come rappresentante della giunta il post terremoto. Poi Daniele Silvetti, assessore all'infrastruttura, è stato capolista di Forza Italia per Acqualori presidente nel collegio di Ancona. È un avvocato della città d'Orica e dovrebbe essere premiato come unico rappresentante del partito di Berlusconi. L'unica donna invece al governo della regione Marche è Daniela Tisi, in quota Lega ed è passata al partito di Salvini dal Movimento 5 Stelle. Fermana, prima del voto, disse voglio ricostruire le Marche con l'arte. Avrà proprio la delega alla cultura. Poi c'è Francesco Baldelli che probabilmente avrà la delega all'agricoltura. Baldelli è nato da ancora ma risiede da sempre a Pergola, è stato primo cittadino della sua città e nella giunta guidata dal suo collega di partito Acquaroli si dovrebbe occupare appunto di agricoltura. E poi c'è il fanese Mirko Carloni che comporrà il trio della Lega insieme a Salta Martini e Tisi. Sarà vicepresidente della regione e assessore alle attività produttive. Nel 2010 si dimise da vice sindaco di Fano per candidarsi ed essere eletto nel Consiglio regionale. Dunque questa è la nuova giunta. Se lo schema di oggi, che i giornali anticipano, verrà confermato, allora scatterà un cambio di presenza anche in Consiglio regionale. Al posto di Carloni entrerà Giorgio Cancellieri di Fermignano, Nicola Baiocchi al posto di Baldelli, Andrea Assenti siederà sullo scranno lasciato libero da Castelli e Anna Menghi in quello liberato da Salta Martini. Raccolta di firma, siamo dall'altra parte, dalla parte degli sconfitti. Il Partito Democratico raccolta di firme per il commissariamento. Gostoli dice che barbarie, è un accanimento. Il segretario dem di Missionario, in queste ore ho letto a malincuore di una raccolta firme per chiedere il commissariamento del Partito regionale. In tutta sincerità, dice Gostoli, non pensavo di meritare un accanimento di questo genere sul piano politico ma anche umano. La raccolta di firme documenta l'ultimo fronte in movimento di un partito senza pace. Ancora Gostoli dice il Partito Democratico delle Marche ha bisogno di arrivare ad un nuovo congresso regionale. La speranza è che sia di rilancio su un progetto politico e organizzativo o poi sulle persone che possono rappresentarlo. La cronaca. Dal Carlino, l'inferno di un'anziana. Badanti spilano 500 mila euro a una settantottenne. Andiamo a Marotta, dove una coppia di coniugi da dieci anni gestiva risparmi e pensione di una donna senza darle sostentamento. Sono stati ovviamente denunciati. Una donna, lei è una donna di 78 anni del posto, nubile, senza fratelli e sorelle, diventata la vittima di due coniugi, da due anni trasferiti sia a casa dell'anziana, nei confronti dei quali è stata ora emanata da parte del GIP del Tribune di Pesaro, su richiesta della Procura, la misura cautelare dell'allontanamento e del contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa per i reati di maltrattamenti aggravati e circonvenzione di incapaci. Ora i carabinieri le stanno comprando cibo dopo aver trovato il frigo praticamente vuoto. Le stanno facendo praticamente la spesa. Insomma, in tutti questi anni parliamo di cifre importanti che si avvicinano intorno ai 500 mila euro. A Fano invece, dal Carlino, tari alle stelle, la tari è la tassa sui rifiuti. Associazioni da seri, dal sindaco, summit oggi tra rappresentanti di categoria e amministrazione. Intanto arrivano altre cartelle da capogiro. È un pasticcio, c'erano stati già accordi con Aset sulle superfici da tassare. Non si incrociano nemmeno i dati. Mentre sotto, sempre dalla pagina di Fano, la protesta snobbata la più grande banca dati sul patrimonio del territorio a fondo dell'Associazione Argonauta contro gli stati generali del turismo. Una studentessa, qui apriamo la pagina del Covid, studentessa positiva. Due classi del Benelli di Pesero sono in quarantena. La preside dice in tutto, 37 ragazzi e 18 docenti, rivedremo la programmazione. Percorso scuola, giorni, si aprirà il terzo drive test in strada dei cacciatori. Santa Croce nello staff professionista con sintomi. Tamponi anche fra il personale della direzione medica di presidio dell'azienda ospedaliera Marche Nord e alla sede di Fano ed è risultata una positiva, una componente dello staff. Già da qualche giorno negli elenchi del Departimento di Prevenzione di Area Vasta fra gli ultimi positivi sintomatici c'è proprio una professionista in forza alla direzione medica del presidio del Santa Croce di Fano sintomatica e posta subito in quarantena con i propri familiari. Andiamo sulla pagina invece adesso del Val Cesano. Andiamo a vedere, scusate, si è spostato un po' l'ordine. Allora, continuiamo a parlare del Covid. Siamo sulla pagina del quotidiano nazionale. La Movida, sapete c'è stato il nuovo DPCM, tutte le varie restrizioni, tutto quello che dovremmo fare da qui in avanti. Allora, sulla Movida, le feste, lo sport amatoriale, c'è l'ok sulla stretta, vietato sostare fuori dai locali dopo le 9 di sera, acceso confronto tra Governo, Regioni e Comuni su questo DPCM, scontro invece fra enti locali a Roma sugli eventi sportivi. Tensione anche sul coprifuoco ai ristoranti e pub. I governatori in coro al Premier dicono tutelare i lavori e le attività. Le palestre restano aperte, resiste l'attività dilettantistica purché si rispettino i protocolli anti-Covid. La mascherina, se si va a spasso, sì. No invece se si fa jogging, cioè se si corre. Mentre nei bar, nei pub, nei ristoranti, le serrande giù a mezzanotte, le attività dei servizi di ristorazione, anche le pasticcerie, le gelaterie, insomma, sono consentite. Ma fino a mezzanotte le Regioni possono decidere anche fino a lunedì notte. Se l'esercizio non è provvisto di servizio al tavolo, è obbligatorio chiudere invece alle 21 invece che a mezzanotte. Quindi se non ci sono i tavoli bisogna che chiudano alle 9 di sera. Poi abbiamo visto calcetto e basket, gli sport di contatto amatoriali, parliamo di amatoriali, quindi calcio, calcetto, pallavolo, arti marziali, pugilato, dovranno fermarsi finché la situazione dei contagi non migliora. Salvi invece il tennis, il padel e le attività agonistiche. Negli stadi, abbiamo visto, possono entrare non più di mille tifosi se è all'aperto, mentre i palazzetti, quindi al chiuso, soltanto 200. Cinema e teatro, nessun taglio agli spettatori. Franceschini, il Ministro, ha detto nessun nuovo limite agli spettatori dal vivo e al cinema, al chiuso, all'aperto. Le deroghe concesse fino ad oggi resteranno in vigore grazie al nuovo DPCM. Quindi resta tutto come prima. Mentre nozze, per quanto riguarda le celebrazioni, con 30 invitati e 15 ai funerali. I matrimoni possono essere svolti con la sola presenza dei soggetti che devono intervenire alla celebrazione e non più di 30 invitati. La mancata osservanza determina l'invalidità del matrimonio stesso, mentre ai funerali al massimo 15 persone. Boh, io non capisco questa cosa del... delimitare queste cose in chiesa. Già che ci va poca gente. Poi 15... Che cosa cambia? Vabbè. No al drink libero. Dalle 21 si beve solo ai tavoli. Si pensa ad un divieto di sosta e consumazione all'esterno dei locali. Dopo le 21 fatto salvo il servizio al tavolo. Quindi queste sono le restrizioni. Addirittura adesso il DPCM entra anche nelle nostre case. Ormai siamo blindati anche dentro casa. Le cene in casa non più di 6 persone. Adesso qui bisogna capire come verranno i controlli. Se il vicino di casa dovrà fare la spia oppure se busserà la polizia alla porta per vedere in quanti siamo. Però questa è la situazione. È un'indicazione, non è un diktat per adesso, scrive il giornale. Tra parentesi. Alcuni ministri volevano imporre un obbligo e controlli stirringenti. Consigliata la mascherina tra le mure domestiche in presenza di amici. Attento Conte ti guarda, scrive Alessandro Farruggia sul resto del carriero di questa mattina. Attento Conte ti guarda. L'ipotesi che i controlli di polizia anti-Covid potessero sbarcare nelle abitazioni private era tanto inquietante quanto assolutamente impraticabile. E sebbene assai presente nell'ara rigorista del CDM, il Consiglio dei Ministri sta svanendo. Arriverà solo una forte raccomandazione, non un obbligo ad usare le mascherine in casa quando ci sono estranei in vista e a non organizzare feste con oltre sei ospiti tra le mura domestiche. Questo oggi è l'orientamento del Governo, anche se l'ipotesi non può ancora essere esclusa al 100%. Stiamo parlando ancora di forti raccomandazioni, non di obblighi di usare le mascherine in casa quando ci sono gli estrani, a non organizzare feste con oltre sei persone. Però, 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 mai dire mai, mai dire mai. Questa è un po' la situazione a cui andiamo incontro in questa seconda parte di questo incubo che si chiama Covid, al quale tutti noi siamo protagonisti, è un film che speriamo finisca presto, ma che in realtà, insomma, è un po' così. Salvini va all'attacco, intanto dice sette portasfortuna, mandiamo la polizia nei condomini, è uno scenario da grande fratello. Lo Stato non può imporre il bene. Il filosofo dice di troppe regole si muore. Silvano Petrosino, docente alla Cattolica, mette in guardia il Governo. La pretesa del controllo è pericolosa. Indirizzare le scelte individuali è la tentazione di tutti i regimi totalitari. C'è un limite che non può essere superato. Vivere è imparare a crescere anche attraverso gli errori. Un figlio che obbedisce sempre al padre è peggio di un figlio che sbaglia, perché di troppe regole si muore. È un docente che ha 65 anni. Il filosofo avvisa la pandemia è uno stress test per le democrazie. Si registra una tentazione pericolosa, voler imporre dall'alto il bene comune. È un vizio tipico dei regimi totalitari, violenti o gentili che siano. Va bene la prevenzione, ci mancherebbe, ma il nodo è fino a che punto è legittimo limitare la libertà personale per mettere una società in sicurezza e subito dopo chi decide cos'è bene e cos'è il male. Questa è la pagina invece 9 del Resto del Carino. Ecco perché si possono liberare i positivi. L'infettivologo dice dopo 10 giorni un asintomatico può riprendere la sua vita normale senza rischio di contagiare altre persone. Chi contrae il coronavirus risulta contagioso per non più di 10 giorni. C'è un tampone negativo, con un tampone negativo 10 giorni e fine degli arresti domiciliari. Un dato ha convinto il comitato scientifico ad abbassare il periodo di quarantena che era di due settimane, semplificando così la procedura di reinserimento nella comunità dopo la guarigione dal Covid-19. Quindi non più 14 ma 10. E questo è un po' l'indirizzo che sta prendendo un po' anche il comitato tecnico-scientifico. Tremo nelle pagine locali di nuovo del Resto del Carino. Perché? Sempre legate al Covid, naturalmente, è quello che stiamo vivendo. I nostri figli, 8 ore fuori casa, denunciano 18 famiglie di Pergola. A causa dei nuovi orari dei bus escono alle 6.15 e tornano alle 14.30. Quindi escono alle 6.15 del mattino e tornano alle 2.30 del pomeriggio. Ed è una... praticamente sono tante ore, tante ore fuori casa. La partenza è stata anticipata di un quarto d'ora, poi li fanno scendere a San Lorenzo e stanno lì 10 minuti. A Marotta saluta invece, Marotta saluta il suo fotografo, Dio Gabriele Caporaletti. Aprì il suo studio nel 66, lasciandolo poi al figlio, figlio Davide, che oggi è anche assessore al turismo. Per decenni ha immortalato i momenti più felici della sua comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati, appunto, il funerale è stato celebrato ieri mattina nella chiesa di San Giuseppe dal sacerdote Don Egidio Bugugnoli. Andiamo avanti ancora con la nostra segna stampa, velocemente sull'altra pagina. Eccola qua, di Vallefoglia, una giornata per le vittime del Covid. Qui si racconta, sul Corriere di Ratico di questa mattina, di una seduta di un Consiglio Comunale di Vallefoglia davvero incandescente, soprattutto nella parte finale, quando è stata discussa la mozione del centrodestra che impegnava la Giunta, guidata da Palmiro Occhielli, a istituire una giornata di ricordo dedicata alle vittime del Covid-19. Bocciata dalla maggioranza, la mozione è stata sia appoggiata al Movimento 5 Stelle ma al momento della scelta della data sono emersi altri problemi e quindi, insomma, è successo un po' il pandemonio. Si chiama Lanciarini, non demolite il blocco più alto, il comitato ospedale locale, siamo a Sasso Corvaro, replica la consigliera Vitri, cambi marcia rispetto al Partito Democratico. Passa il giro e la città va in tilt. Siamo sulla pagina di Fano del Carlino, statale chiusa dalle 11 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, niente scuola o uscite anticipate, tamponi a rischio al Codma, la Lega dice incapaci. Passa dunque il giro d'Italia, la tappa è quella di Porto Sant'Elpidio Rimini e del giro d'Italia di E-Bike, la tappa è Marotta-Rimini, E-Bike è quella con le bici elettriche e dunque domani c'è la chiusura della statale 16, dalle 11 alle 3 del pomeriggio con sospensione della circolazione di vieto di sosta. Di conseguenza non andranno a scuola gli alunni che frequentano le scuole medie Padalino-Gandiglio, le scuole elementari Rossi-Gentili e Corridoni, le classi a tempo normale con uscita al 13-13.30, la scuola elementare Montessori e la scuola primaria paritaria Maestre Pie-Venerini. Uscita invece alle 10, quindi anticipata, per gli studenti del Nolfi, del liceo, compresi quelli dell'Artistico e a San Lazzaro, e del liceo Torelli e del Polo 3. Saranno invece regolarmente aperte tutte le scuole che finiscono le lezioni oltre il termine di chiusura della viabilità previsto fino alle 15, quindi le scuole dell'infanzia, comprese quelle delle Pie-Venerini e San Marco, e le scuole e le classi a tempo pieno, senza alcuna variazione di orario, di entrata e di uscita. Anche Marotta aspetta i ciclisti, prevista la gara per le bici elettriche, ecco cosa c'è da sapere. Poi, sempre da Fano, si è spento a 78 anni l'imprenditore Mario Del Vecchio, fondatore dell'azienda di trasporti, padre dell'ex consigliere comunale Davide Del Vecchio, ieri ci sono stati i funerali, eccolo qua, Mario Del Vecchio insieme a Davide e Simone durante la festa per i 40 anni dell'azienda e 70 del fondatore. Mario Del Vecchio aveva 78 anni, un'azienda, la Del Vecchio Trasporti, che ha alle spalle oltre 45 anni di attività, lavora con le più importanti aziende italiane del centro-nord del settore metalmeccanico e dal 1987 è gestita dai figli Davide e Simone. Come dicevamo, ieri ci sono stati i suoi funerali, nella chiesa di San Cesario, la presenza anche del sindaco di Fano Massimo Seri, del primo cittadino di Collio e Metauro, Stefano Aguzzi, poi la tumulazione nel cimitero di Ferretto. Andiamo, c'è una classe, scusate, in quarantena, l'abbiamo forse visto nell'altro giornale Covid, altre classi in quarantena è della primaria Gentili, dopo il caso della tombare di Bellocchi, un altro alunno trovato positivo, dunque un'altra classe in quarantena, il provvedimento è toccato in una classe della scuola primaria Gentili, che fa parte dell'istituto comprensivo Gandiglio. Siamo sempre a Fano, anche sul Corriere Adriatico, passa il giro, la statale si blocca e anche le scuole saranno chiuse, questo è il titolo sul quotidiano delle Marche. Morbidelli invece, il famoso museo che si trovava ormai smembrato a Pesero, moto a rischio, mettetele altrove, gli esemplari superstiti dopo lo smembramento della collezione sono nel capannone di via fermo, l'ASI dice chiunque potrebbe rubarle, quindi l'associazione che ha pagato un milione e mezzo di euro per comprare 70 pezzi, adesso non si fida, ha paura che insomma qualcuno possa entrare e dunque chiede di trovare una sistemazione e quindi di spostarle. Crisi del mobilificio sparra, il Tribunale accoglie il concordato, per l'azienda della famiglia Vellucci ci sono ora 5 anni di tempo per pagare i debiti con i fornitori, agenzie di viaggio chiedono sgravi al Comune, il Comune però prende tempo, primo confronto in Sala Rossa a Pesero. Gli stati generali del turismo a Fano ignorano la nostra banca dati, Argonauta segnala le potenzialità del sito web La Valle del Metauro, intestato appunto alla Valle, ma quanto pare insomma non ci sono riconoscimenti neanche economici. I volontari chiedono un aiuto al Comune per implementare sui social una parte ricettiva. E poi il comitato che rivendica i danni della mareggiata del 2015, case ed attività invase dalle onde, il Comune di Fano ci deve ancora chiamare. Mentre la foto qui a fianco è di padre Damiano Angelelli, il frate morto a 101 anni, anche il Sindaco di Fano lo ricorda, oggi, questa mattina, alla chiesa, questa mattina nella Basilica di San Paterniano ci sarà il suo funerale. Mentre sulla pagina 16 del Corriere Adriatico, banda seriale va a caccia di BMW, il bottino sono volanti e cruscotti, altro colpo sulla panoramica ardizia, non lontano da Via Kennedy, dove è avvenuto il primo furto. I pezzi smontati finiscono sul mercato nero, indaga la polizia. Intanto droga in carcere, nascosta nel Reggiseno, il giudice ha condannato la quarantenne a nove mesi e a 3.000 euro di multa. Dalla Val Metauro, riscoperta la gola del furlo, quest'estate 7.500 visitatori, marchigiani e italiani a stragrande maggioranza, confermata la tendenza al turismo di prossimità. A Terre Roveresca è pericoloso l'incrocio tra Via Matteotti e Piazza Ripa, i cittadini di Orciano chiedono una rotatoria. Per l'Atari abbiamo usato proprio l'avanzo, il sindaco di Fossombrone replica a Chiarabilli, rilevando che i fondi del governo coprono le minori entrate. Locali chiusi a Urbino, siamo sicuri che basterà, gli studenti non condannano a priori le saracinesche abbassate a mezzanotte, ma temono che possa essere di fatto inutile. Dopo la chiusura i ragazzi si vedono al chiuso dei loro appartamenti. Acquaroli ora scelga persone competenti, il sindaco Gambini lancia l'appello per la giunta regionale, non si faccia intrapolare dalle proposte dei partiti. Sempre da Urbino, Corriere, coprifuoco, titolo, nessun trasgressore ma i controlli saranno rafforzati. La polizia annuncia più presenza notturna in centro, cecchini della Confcommercio, chiudere non è la soluzione. E per ricominciare si deve cambiare la videolettera degli studenti. Da Senigallia controlli sulle mascherine, multato un altro locale, proseguono le verifiche dei carabinieri, in particolare nelle zone frequentate dei giovani e anche all'esterno delle scuole. Alcuni studenti sono finiti adesso in quarantena. A Cesaro un fumogeno, allo stadio di Pesero, condannati a due tifosi della Vis, un anno di reclusione per aver creato pericolo tra gli spalti. Il PM aveva chiesto invece la soluzione. Lo sport, i tre sospiri di una vis rigenerata contro il Matelica, la squadra si è sbloccata. Intanto sembra sia nato un caso pugioni, mentre Fano doveva dare di più. Bernardini parla dello 0-2 contro la Samba, occasioni comunque create con il gioco, è mancata la cattiveria, andare avanti così senza pubblico e con costi aumentati per i controlli Covid non è più possibile. Mentre c'è attesa per le nuove regole al Palazzetto dello Sport in 200 oppure in 1000, le normative per l'ingresso degli spettatori non prevederanno una grande apertura al pubblico. Una VL di cui innamorarsi bene i singoli e il collettivo ammestra una vittoria importante che può pesare sul futuro. Mentre con questa pagina dedicata allo sport chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito. Vi ricordo questa sera alle 20.30 del Telegiornale. A voi tutti l'augurio di una buona giornata insieme alla nostra emittente. Vi ricordo a proposito alle 11, importante alle 11 una diretta per segnalarvi una diretta che arriva da Fatima, mi pare, giusto Riccardo? Da Fatima, ok. Da Fatima alle 11, oggi il 13 d'ottobre, l'ultimo giorno dell'apparizione. Ci fu tantissimi anni fa anche il Miracolo del Sole. C'è una grande messa che trasmetteremo in diretta da Fatima proprio per questo avvenimento. Grazie davvero, buona giornata. Grazie a tutti.